3 agosto sono le 9 sono in macchina sto per partire per andare a Yetui ora vi faccio vedere dal cellulare andando qua a Yetui che praticamente sono scesi due ragazzi di Firenze dopo vi lascio a un me del passato che vi racconta tutta la storia comunque ora sto andando ad incontrare finalmente la mala si è riunita tutta insieme avrò 20 minuti di macchina quindi vi lascio perché la batteria della fotocamera ha meno del 20% e dopo vi faccio vedere i ragazzi vi lascio al me del passato che vi spiega tutta la storia come è nato voi mi chiedete allora partirei col dire che qualche mese fa io e Elia il Toso primo membro della MDP hanno deciso di fare una partita squad a random diciamo su fortnite e casualmente abbiamo incontrato altri due fioi uno è orlifera 02 e uno è compagnone 993 se non sbaglio il numero non me lo ricordo è meglio scusami compagnone siamo diventati amici su quello che era fortnite poco a poco abbiamo incominciato a giocare insieme non immediatamente ma dopo qualche settimana io e Elia per gioco avevamo già il tag sul nostro nickname di fortnite mdp e giocando giocando con questi due fioi ho detto ma perché non vi mettete anche voi il tag mdp e così si è formato la nostra squad e stavo dicendo che sono due fioi della toscana perché non lo sapesse perché non è magari mi segue da molto noi invece io e il toso simmo del veneto infatti se sentirà un fia l'accento che sbora umore 3 15 coi fioi eccoli qua siamo arrivai siamo andai bere adesso partitina a calcetto e dopo let's go let's go let's go let's go dove vai? dove vai? dove vai? dove vai? dove vai? ehm vai da oh i 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